Come è stato un sostenitore? Quindi a partecipare proprio direttamente. Perché mi sembra giusto dare un sostegno più concreto e attivo a un soggetto che in qualche modo ci aiuta a riflettere con la nostra testa. Questo è un'epoca in cui invece c'è più l'abitudine a seguire le mode. E dentro il cantiere, diciamo, tu che cosa ti aspetti? Quale ruolo pensi di poter giocare? Qual è il talento che vuoi mettere in campo in questo nostro tentativo umile di crearci un luogo di incontro, di dibattito politico, di discussione, di circolazione delle idee? Beh, innanzitutto vedo un'occasione di crescita per me stesso, di formazione, diciamo, visto i temi interessanti che vengono affrontati. E poi nel corso degli sviluppi vedremo se posso essere un po' più costruttivo io, visto che tanti temi toccano argomenti cui mi sono occupato, come l'Europa e l'economia. E un'ultima domanda, visto che siamo a pochi giorni dall'elezione del Capo dello Stato, questa corsa al Quirinale è una tua riflessione anche su quello che si prospetta, che leggi in questi giorni di questo appuntamento? Beh, diciamo, sono soggetti molto più autorevoli di me a commentare un tema così importante. Ci auguriamo, come tanti altri, che possa emergere una figura rappresentativa, che possa collaborare alla coesione dell'Italia e anche al suo prestigio internazionale. Secondo te che caratteristiche deve avere il nuovo Presidente della Repubblica? Beh, personalmente non condivido quelle idee che vogliono portare figure fuori dalla politica. Penso che ci debba essere una persona di esperienza. Questo però non vuol dire che politica debba essere circoscritto, diciamo, ai parlamentari in carica. Quindi ci possono essere persone che in grado di dare coesione e aiutare a realizzare la coesione e l'unità necessaria in una fase così difficile per l'Italia. Ecco, quindi una figura di questo tipo, che abbia un suo spessore e che possa raccogliere con un consenso più ampio possibile. Grazie a Marco D'Agostini e continuiamo con il nostro congresso del cantiere. Grazie a Marco D'Agostini e continuiamo con il nostro congresso del cantiere.